Nel quadro delle iniziative finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza, rivolte in particolare alle fasce di popolazione più esposte a truffe e furti, la Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Fano e la Proloco Fanon Fortune, ha organizzato un incontro che si terrà venerdì 23 giugno alle ore 21 nell'Aulamagna della Protezione Civile al Codma di Rosciano. Dopo i saluti dell'assessore al welfare di Comunità Dimitri Tinti e del presidente dell'Istituto di Credito Romualdo Rondina, interverranno il dirigente del commisariato di Polizia di Fano, Stefano Seretti, e il responsabile del servizio sistemi informativi della BCC, Maurizio Giommi. Seretti, quali sono i reati maggiormente commessi nel nostro territorio? Più a Fano e in zone circostanti il reato più sentito e anche più perpetrato, più diffuso, è sicuramente quello di furti in abitazione, oltre che di furti di bicicletta, che è uno dei mezzi più utilizzati nella nostra città e nel nostro territorio, ma i furti in abitazione sono quelli che destano più allarmi sociali. Devo essere onesto nel dire che negli ultimi anni siamo riusciti in tutte le forze di polizia del nostro territorio. Noi come Polizia di Stato, come commissariato, abbiamo veramente investito molto in questa attività. Lo facciamo anche grazie a degli strumenti che ci danno ottime opportunità in questo senso, quindi il sistema di videosorveglianza cittadino. Ad esempio per quanto riguarda i furti in abitazione, quali sono le buone prassi per evitarli? Allora, la principale prassi che ho notato e che credo sia proprio specifica per il nostro territorio è quella di fare una valutazione specifica, una valutazione approfondita della propria abitazione ed individuare quelli che sono i punti deboli per l'accesso nella stessa, cosa che i ladri fanno assolutamente. Loro individuano il punto debole dove poter accedere. Normalmente sono le parti posteriori dell'abitazione, quelle meno in vista, quelle anche meno illuminate di notte o comunque quando non c'è più la luce naturale. Quindi cercare di rafforzare il più possibile questi punti di accesso, con delle grate, con delle inferiate oppure degli allarmi proprio dedicati solo a quell'accesso, a quella porta finestra o quella finestra e fare in modo di potenziare assolutamente questi accessi che sono i punti deboli di tutte le abitazioni. A seguito della pandemia e anche a seguito della guerra russo-ucraina sicuramente è aumentata l'attenzione da parte di sia organizzazioni criminali ma anche di organizzazioni legate ai governi cosiddetti canaglia verso il mondo internet e verso la rete. Quindi cosa è più interessante per queste organizzazioni se non colpire i conti correnti della clientela? L'obiettivo dell'incontro, l'obiettivo della mia presentazione sarà quella di fornire qualche strumento di cosiddetta igiene digitale o igiene informatica. Strumenti che possono rendere la nostra vita digitale più serena e più sicura. E farò poi un focus ovviamente proprio sulle truffe online, quelle più diffuse che sono i fishing, lo smishing, i vishing. Quindi sono varianti sempre del medesimo attacco che è un tipo di attacco massivo che va a colpire, che cerca di colpire più persone possibile sperando che qualcuno poi abbocchi come un pesce in una rete. L'incontro moderato dal presidente della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano Alberto Di Martino sarà d'ingresso libero. L'obiettivo della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano è quella di promuovere la raccolta di beni e patrimoni per poi poterli devolvere nel settore del sociale ed essere vicino al nostro territorio. L'attività di questa sera è mira a continuare un'iniziativa della vecchia Fano Solidale che ha come scopo quello di essere vicino alle persone, anziane e non anziane ma diciamo in qualche modo che in maniera spontanea o genuina possono cadere nel rischio di essere vittime di truffe, rapine sia di tipo informatico che di tipo fisico presso le abitazioni. Aspettiamo venerdì sera presso la sala della protezione civile del CODMA ma sarà poi anche probabilmente ripetuta la trasmissione di quanto registrato.